Incontri e dibattiti al Santa Giuliana, siamo con l'assessore Scoccia, architetto, che quindi capisce l'arte che pregna questa sede prestigiosa della scuola dell'esercito italiano, la scuola dell'ingue. Il comune ha voluto essere presente al fatto che l'esercito si apre alla cittadinanza e la cittadinanza si apre all'esercito. Che emozione le fa di vivere in un ambiente che è stato nel XIII secolo esorto, nel 1863 diventato un ricovero militare e poi nel 1993 è diventata una scuola delle lingue e dell'esercito, una delle più prestigiosi d'Italia. Qual è questa sua emozione che vive anche come architetto? Più che come architetto vorrei sottolineare l'emozione che si ha come cittadino, perché questo è uno dei luoghi che appartengono a tutta la comunità perugina e che dovremmo rimparare a riscoprire. Questo è uno degli eventi che ci accompagna in questo senso e ringraziamo anzitutto gli organizzatori per aver aperto le porte a queste visite guidate, che sono anche delle visite guidate tematiche che non solo hanno questa capacità di poter illustrare e far visitare una Perugia a volte un po' nascosta, ma ricca di tesori su cui dobbiamo lavorare, investire, saper promuovere proprio in un'ottica generale di valorizzazione del centro storico. Questo è un punto di riferimento culturale, architettonico importantissimo, ma anche di prestigio dal punto di vista della formazione di militari e non, perché poi è una scuola se vogliamo anche aperta a chi non è dell'esercito. Quindi rappresenta veramente un patrimonio comune da valorizzare ed è anche molto interessante che cominciamo questi incontri con la presenza di un cittadino come il maestro Venanti che, ripeto, incarna in se stesso le tante virtù in questo senso sia artistiche che culturali che di partecipazione alla vita della cittadinanza tutta. Quindi è un bellissimo connubio che sarà poi il preludio di una serie di eventi a posteriori di cui il Comune di Perugia ringrazia chiaramente ma ne è particolarmente orgoglioso. Il sodalizio fra le istituzioni della persona sua, quale assessore, l'assessore alla cultura Leonardo Arasano, il generale di brigata Vigorita che ha aperto questa possibilità e la cittadinanza. Sono il miglior sodalizio per poter far vivere Perugia ricca di storia. Non posso che darle ragione da questo punto di vista, anzi, ripeto, noi ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso su cui crediamo fortemente, che appunto l'assessorato alla cultura, una persona di Leonardo Arasano, ha voluto con particolare volontà e che un po' tutta l'amministrazione si sente di seguire con affetto e riconoscenza.